Berry Plant è felice di presentarvi questa casa meravigliosa. Non perdete l'occasione, questa bellissima casa potrebbe essere la vostra. Comprende cucina funzionale con elettrodomestici di prima qualità. Gradevole camere da letto che offrono abbondante spazio a tutti. Il meglio della vita è dell'intrattenimento all'aperto. Un ottimo modo per finire la giornata. Non perdete l'opportunità per vedere questa casa oggi.